Gian Pellissier, ritorno alle gare dopo la scorsa stagione, soprattutto dopo la tentativa di salita al McKinley con gli sci. Com'è andata oggi in Baltano? Oggi, vabbè, più o meno, insomma, ha tribolato un po' perché ha fatto un mese un po' ammalato, adesso sto cercando di trovare la forma con le gare, speriamo. L'obiettivo è sempre mezza lama, no? L'obiettivo è mettersi in forma. Il socio c'era il buono, il seleto anche oggi è andato forte. Ma sì, il socio, vabbè, l'elen è forte, sì, è molto migliorato, poi è buono, quando si è in forma comunque alla fine la squadra è troppo insieme, bisogna solo mettersi un po' a posto, vedere, tenere duro. Oggi forse per te era per sé troppo corta questa gara, anche se era tecnica per la neve e per la cresta, no? Ma no, no, vabbè, io sto contento, non è che c'è una gara che sa quanto lunga, anche perché non ho più corso. Ma dali là, non ce l'hai che sotto te e gli sci, perché Simon sta guardando un paio di sci, forse non sono di più, scusa. Comunque, dopo il MacKillay non ti è venuta allora la nausea dei sci, adesso quest'anno ritorni a fare le gare, tutta la stagione di sci, ottimismo. Ma sì, sì, no, anzi, beh, MacKillay è stata un'esperienza positiva perché comunque è saputo come si poteva fare e si fa benissimo. E poi, vabbò, adesso... Allora, tanti auguri per la stagione, poi soprattutto speriamo tutti di vederti, il protagonista Mezzolama, ad aprile. La gara di casa... Speriamo. Campione in carica. Ripeto, intanto mettersi in palma, poi... Ciao, ciao. Ciao.